è stata per iniziare la mia terza eliminazione non riesco a realizzare che è successo veramente sono mesi che te lo dico te l'ho detto un sacco di volte ho dato più baci a Maria che a te ma dove va? sì vabbè ma l'ho capito ma che senso ha? ricorda ma che senso ha? che senso ha? muoio proprio fuori dal vasetto capisco ora che lui ci rimane male però andare via così non lo trovo corretto Maria perché il percorso si sa che è questo cioè il format è così cioè non è che c'è un ragazzo solo alla fine può succedere grazie a tutti grazie a tutti